Strade ancora sporche, erba alta, cumuli di ingombranti. Come testimoniano le immagini di questa mattina, la situazione a Torre del Greco resta ancora critica, soprattutto in alcune zone della città. Uno scenario fatto di degrado e di inciviltà, in barba a regole e controlli, la gente continua a disfarsi dei rifiuti in modalità illegali ed ingiustificabili, a cominciare dai mobili e dai materassi lasciati sui marciapiedi senza alcun ritegno, come a Via 20 Settembre o a Via Comizi, nei pressi di Palazzo Baronale. Così alcune zone del territorio diventano mini discariche abusive. Uno spettacolo indecoroso, sacchetti contenenti rifiuti non meglio identificati, ma soprattutto mobilio e gli immancabili materassi usati completano il quadro. Un'annosa questione ancora senza soluzione. Proprio ai microfoni di TV City nei giorni scorsi, i cittadini, lamentando le carenze e le criticità del porta a porta, chiedevano maggiori controlli per stanare i trasgressori. Una buona fetta di popolazione, infatti, vuole una città più pulita e rispetta le regole.